In presa del Granata che rimonta due reti a Nuova Fette ferma la capolista sul pari per 2 a 2. I gialloblu di Achille Fabri avevano subito due reti in una sola partita la quarta giornata quando furono sconfitti in casa 2 a 1 dal Miramare. Gara vivace dalle prime battute ma mancano le occasioni. I locali partono in attacco con Foschi e Amaducci bravi a seminare scompiglio sulla faccia destra mentre Nuova Fette si affida spesso al lancio lungo di Rinaldi per la sponda di Francesco Baldrini. Lo stesso Di Muro tra i peggiori in campo si era complicato la vita in uscita. Tocco di pugno sul lancio su punizione di Rinaldi a centrocampo con la palla che va pericolosamente all'indietro e l'estremo difensore che si salva in tre tempi. Di Muro è il protagonista negativo anche a 22esimo quando va a caccia di Farfalle in uscita su un traversone alto. Gori non approfitta da posizione di filata a calza alto di destra dopo aver stoppato il pallone. In Nuova Fette rompe gli equilibri a 28esimo sul gentile omaggio dalla difesa avversaria l'ennesima punizione battuta dalla trequarte di Rinaldi è avvelenata. Un giocatore di granate di testa si trasforma in attaccante e prolunga la trattoria servendo a Gabriele Raffaelli la più comoda delle occasioni. Il difensore con grande opportunismo infila di sinistro Di Muro. Con il gol di vantaggio la squadra ospite gestisce il processo di palla ma rischia il 39esimo quando Foschi ruba palla a fattore sulla destra e crossa la sua terra però non trova Mancini pronto alla deviazione e alla posizione favorevole. E la volta di Gori chi viene servito sul lato sinistro parte la sua conclusione di piatto ma Di Muro questa volta ci mette una pezza. A inizio ripresa In Nuova Fette premia sull'acceleratore l'occasionissima capita sui piedi Mamutai la cui conclusione viene respinta di Muro con i guantoni. Il guantonesimo Gori crossa da sinistra Stefanelli a due passi colpisce di testa un clamoroso palo nel proseguo dell'azione i giallobru conquistano un calcio d'angolo soccrossano la bandierina Stefanelli inconna ancora da centro aria Di Muro compie una parata prodigiosa ma Francesco Baldinini è lesto nel tapin vincente. Il Granata sembra tappeto ma rientra in partita a 62esimo Mastria entra in area e viene letteralmente facciato da fattori che rischia il rosso per il duro intervento e rigore che Mancini trasforma nonostante Semprini intuisca il tiro a mezz'altezza che si infila alla destra del portiere. A novantesimo il colpo di testa al lato di Milzoni manda un avvertimento a Nova Feltia ma la squadra liminese non lo recepisce. Due minuti dopo Mastria si gira e lancia a lungo la sponda di un giocatore del Granata trova in 98 Pagliarani completamente libero davanti a Semprini il sinistro sporco è imprendibile. Pareggio che non fa felice Nova Feltia vista la partita ma da queste parti visto anche il passato si era perso e non poco un punto che fa classifica due punti in più sulle dirette rivali che si chiamano da questa sera Real Miramare e Poggio Berni.